Lezione 1. Fare la spesa. Ehi Anna, hai notato che il supermercato è pieno di cibo? Ciao John. Sì, è sempre fornito di un'ampia varietà di prodotti per i clienti. A volte vedo cose nei cassonetti in mezzo ai corridoi. Cosa sono quelle? Si tratta spesso di articoli in saldo o promozioni speciali. Sono pensati per attirare l'attenzione degli acquirenti. Ah, capisco. È un modo intelligente per mostrare prodotti scontati e incoraggiare gli acquisti. Assolutamente. È una strategia comune per attirare clienti e promuovere determinati articoli. Mi piace esplorare diverse sezioni del supermercato. È come una caccia al tesoro per gli ingredienti. Mi sento allo stesso modo. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, soprattutto nel settore alimentare internazionale. Mi piace provare nuovi sapori e cucine. Il corridoio dei cibi internazionali sembra intrigante. È un ottimo posto per trovare spezie, salse e ingredienti unici per cucinare piatti internazionali. Parlando di cucina, hai qualche ricetta preferita che vorresti condividere? Sicuramente. Una delle mie ricette preferite è un semplice piatto di pasta con pomodoro fresco e basilico. Sembra delizioso e facile da preparare. Ci proverò sicuramente. Un altro dei miei preferiti è un soffritto di verdure fatto in casa con una salsa piccante di soia e zenzero. Le patatine fritte sono veloci e versatili. Lo aggiungerò anche alla mia raccolta di ricette. Quando si tratta di dolci, adoro fare una classica torta di mele con una crosta friabile. La torta di mele è una delizia senza tempo. Dovrò esercitarmi a preparare la crosta perfetta. La pratica rende davvero perfetti. Goditi il processo e assapora i deliziosi risultati. Grazie per aver condiviso queste ricette. Non vedo l'ora di provarli. Lezione 2. Consigli di viaggio Ciao Anna. Ho sentito che presto partirai per un viaggio. Hai bisogno di consigli di viaggio? Ciao John. Sarebbe fantastico. Sono sempre alla ricerca di consigli utili. Nessun problema innanzitutto. Crea una lista di imballaggio per assicurarti di non dimenticare gli elementi essenziali. Questa è una buona idea. Annoterò tutto quello che devo portare con me. Ricerca le usanze e le tradizioni locali della tua destinazione per rispettare la cultura locale. Assolutamente. È importante essere consapevoli e mostrare rispetto per le usanze locali. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli su luoghi o attrazioni imperdibili. Mi piacerebbe sentire i tuoi suggerimenti. I consigli locali sono sempre i migliori. Porta con te una fotocopia del passaporto e dei documenti importanti in caso di emergenza. È una precauzione intelligente. Mi assicurerò di averne delle copie nella mia borsa da viaggio. Acquisisci familiarità con il sistema di trasporto locale per una facile navigazione. Buon punto. Esaminerò le opzioni di trasporto disponibili nella mia destinazione. Impara alcune frasi di base nella lingua locale. Può migliorare notevolmente la tua esperienza di viaggio. Sono d'accordo. È sempre bello poter comunicare con la gente del posto nella loro lingua. Prepara un adattatore da viaggio per assicurarti di poter caricare i tuoi dispositivi elettronici. Mi assicurerò di portare un adattatore compatibile con le prese locali. Tieni a portata di mano un piccolo kit di pronto soccorso per eventuali lesioni o malattie minori. Questo è un consiglio utile. Includerò alcune forniture mediche di base nella mia borsa. Non dimenticare di informare la tua banca sui tuoi piani di viaggio per evitare problemi con le tue carte. Grazie per avermelo ricordato. Avviserò la mia banca prima di partire. Infine, buon viaggio. Goditi ogni momento e crea ricordi indimenticabili. Grazie. Farò in modo di sfruttare al meglio il mio viaggio. Apprezzo i tuoi consigli. Siete i benvenuti. Buon viaggio e fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lezione 3. Viaggio in aeroporto. Ehi Anna, hai mai viaggiato in aereo prima? Ciao John. Sì, ho volato diverse volte. Può essere piuttosto eccitante. Dopo aver effettuato il check-in dei bagagli, procederai al controllo di sicurezza. Questo è corretto. Controlleranno i tuoi bagagli e controlleranno la tua carta d'imbarco. Ricordati di seguire le linee guida per liquidi e gel nel bagaglio a mano. Sì, tutti i liquidi devono essere in contenitori da 100 millilitri o meno e collocati in un sacchetto di plastica trasparente. Preparati a toglierti giacca, cintura e scarpe per i controlli di sicurezza. Giusto! È importante vestirsi comodamente e indossare scarpe facili da togliere. L'elettronica e i laptop devono essere estratti e collocati in contenitori separati per lo screening a raggi X. Mi assicurerò che siano facilmente accessibili per un processo di sicurezza più rapido. Una volta superati i controlli di sicurezza, trova il gate d'imbarco e attendi l'annuncio. Sì, è una buona idea tenere d'occhio i display con le informazioni sui voli per eventuali aggiornamenti. L'imbarco di solito inizia circa 30 minuti prima dell'orario di partenza previsto. Mi assicurerò di arrivare in orario e di essere pronto a salire a bordo quando verrà chiamato il mio gruppo. Al momento dell'imbarco, tieni a portata di mano la carta d'imbarco e il documento d'identità per il personale della compagnia aerea. Li terrò facilmente accessibili in tasca o in una piccola borsa per comodità. Una volta sull'aereo, trova il tuo posto e riponi il bagaglio a mano nella capelliera. E non dimenticare di allacciare la cintura di sicurezza e ascoltare le istruzioni di sicurezza. Durante il volo, puoi goderti l'intrattenimento a bordo o riposarti. Sembra carino. Porterò un libro o scaricherò dei film per il viaggio. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a chiedere agli assistenti di volo. Assolutamente. Sono lì per garantire il nostro comfort e la nostra sicurezza durante tutto il volo. Buon volo! Goditi la tua destinazione e crea ricordi meravigliosi. Lezione 4. Inchiesta olimpica. Ehi Anna, ricordi la controversia su Ben Johnson alle Olimpiadi di Seoul del 1988? Ciao John. Sì, ne ho sentito parlare. La sua squalifica ha suscitato molto scalpore. L'inchiesta sul suo caso è stata denominata Dubin inchiesta in onore del giudice che ha guidato le indagini. Questo è interessante. Non sapevo che si chiamasse come il giudice. Cosa ha rivelato l'indagine? L'inchiesta ha rivelato che Johnson aveva fatto uso di farmaci che miglioravano le prestazioni, portando alla sua squalifica. Questo è un peccato. È un promemoria dell'importanza del fair play e del mantenimento dell'integrità dello sport. L'incidente ha avuto un impatto significativo sul mondo dell'atletica leggera e ha suscitato discussioni sul doping. Posso immaginarlo. Deve aver sensibilizzato sulla necessità di misure antidoping più severe. Sì, ha provocato cambiamenti nei protocolli dei test antidroga e maggiori sforzi per combattere il doping nello sport. È positivo vedere che sono stati prese misure per prevenire incidenti simili in futuro. Assolutamente. Una concorrenza leale è fondamentale per mantenere lo spirito dei giochi olimpici. Sono d'accordo. È importante sia per gli atleti che per gli spettatori avere fiducia nei risultati. La squalifica di Ben Johnson ha inviato un messaggio forte. Il doping non sarebbe stato tollerato. Si spera che serva da deterrente e incoraggi gli atleti a competere in modo pulito e senza sostanze illegali. L'incidente ha anche suscitato dibattiti sulla pressione che gli atleti devono affrontare e su quanto tempo fanno per inseguire la vittoria. È una questione complessa. Gli atleti spesso devono affrontare una pressione immensa per dare il meglio di sé. Vero, ma è importante dare priorità al comportamento etico e alla salute a lungo termine degli atleti rispetto al successo a breve termine. Assolutamente. Lo sport dovrebbe essere una questione di abilità, dedizione e concorrenza leale, non di imbrogni. L'eredità del caso Ben Johnson serve a ricordare la lotta in corso contro il doping nello sport. Speriamo che le lezioni apprese continuino a plasmare un ambiente sportivo più pulito e onesto. Ben detto. È sempre importante difendere i valori dell'integrità e del fair play nello sport. Lezione 5. La ricerca della felicità. Ehi Anna, non pensi che la felicità sia essenziale nella vita? Ciao John. Assolutamente. È la chiave per vivere una vita appagante e significativa. Non potrei essere più d'accordo. È rinfrescante esplorare nuove strade che ci portano gioia. Sì. Provare nuovi hobby o attività può aiutarci a scoprire cosa ci rende veramente felici. È importante dare priorità al nostro benessere e dedicare tempo alle cose che ci rendono felici. Sicuramente. Impegnarsi in attività che amiamo può avere un impatto positivo sulla nostra felicità generale. A volte, sono le cose semplici che ci danno più gioia, come passare del tempo con i propri cari. Assolutamente. Costruire e coltivare relazioni è vitale per la nostra felicità e il nostro benessere emotivo. È anche importante coltivare la gratitudine e apprezzare le cose belle della nostra vita. La gratitudine può spostare la nostra attenzione sugli aspetti positivi e aumentare la nostra felicità generale. Stabilire degli obiettivi e lavorare per raggiungerli può fornire un senso di scopo e realizzazione. Sì. Raggiungere traguardi e raggiungere i nostri obiettivi può contribuire a un maggiore senso di felicità. Prendersi cura della nostra salute fisica attraverso un regolare esercizio fisico e una corretta alimentazione può anche aumentare la nostra felicità. L'esercizio fisico rilascia endorfine, che sono stimolatori naturali dell'umore e possono migliorare il nostro benessere generale. Dedicare del tempo alla cura di sé e al relax è fondamentale per il benessere mentale ed emotivo. Assolutamente. Fare delle pause, praticare la consapevolezza e fare cose che ci piacciono può ricaricare la nostra felicità. È importante ricordare che la felicità sembra diversa per tutti, e va bene per seguire ciò che ci porta gioia. Sì, abbracciare la nostra individualità e seguire il nostro percorso verso la felicità è fondamentale. Circondarci di persone positive e solidali può anche contribuire alla nostra felicità. Avere un forte sistema di supporto può offrire conforto, incoraggiamento e senso di appartenenza. Alla fine, la felicità è un viaggio e sta a noi fare delle scelte che ci avvicinino ad essa. Assolutamente. Continuiamo a dare priorità alla nostra felicità e a trarre il massimo dalla vita. Ben detto. Ecco una vita piena di gioia, appagamento e innumerevoli momenti di felicità. Lezione 6. Finalizzazione del contratto. Ehi Anna, siamo pronti a finalizzare il contratto oggi? Ciao John. Sì, ho esaminato i termini e ci sembrano favorevoli. Questa è un'ottima notizia. Ne hai parlato con il nostro team legale? Assolutamente. Hanno dato la loro approvazione e fornito alcuni suggerimenti per piccoli aggiustamenti. Eccellente. Assicuriamoci di rispondere a questi suggerimenti prima di andare avanti. Concordato. Contatterò l'altra parte per discutere le modifiche proposte. Una volta ricevuta la loro conferma, possiamo procedere con la firma del contratto. Perfetto. Preparerò la versione finale affinché tutti possano esaminarla e firmarla. È fondamentale ricontrollare tutti i dettagli per evitare malintesi. Assolutamente. La precisione è fondamentale quando si tratta di documenti legali come questo. Una volta firmato il contratto, possiamo procedere con le fasi successive del progetto. Sì. La finalizzazione del contratto ci fornirà la struttura e la sicurezza necessarie. È importante garantire che tutte le parti coinvolte siano d'accordo e protette. Sicuramente. Vogliamo creare una solida base per una partnership di successo. Consideriamo anche eventuali rischi potenziali e includiamo clausole appropriate per mitigarli. Buon punto. Dovremmo anticipare le possibili sfide e affrontarle nel contratto. Una volta finalizzato il contratto, possiamo procedere con sicurezza e chiarezza. Assolutamente. Fornirà una chiara tabella di marcia per la nostra collaborazione. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli e alla completezza durante questo processo. Grazie per me è importante affrontare la questione con professionalità e diligenza. Non potrei essere più d'accordo. Il nostro impegno per l'eccellenza garantirà una solida relazione commerciale. Infatti. Finalizziamo il contratto e celebriamo questa pietra miliare della nostra partnership. Assolutamente. Aspettiamo una collaborazione di successo e un futuro radioso davanti a noi. Salve Anna. Ho delle notizie interessanti per la nostra attività. Ciao John. È bello sentirlo. Qual è la buona notizia? Il nostro ultimo rapporto finanziario mostra una crescita significativa dei ricavi e degli utili. È fantastico. È la prova che la nostra strategia funziona in modo efficace. Assolutamente. I nostri sforzi per espandere il mercato e migliorare i nostri prodotti stanno dando i loro frutti. È gratificante vedere il nostro duro lavoro tradursi in risultati tangibili. Il feedback positivo dei nostri clienti convalida ulteriormente il nostro approccio. La soddisfazione del cliente è fondamentale per il successo a lungo termine della nostra attività. Dovremmo continuare ad ascoltare le loro esigenze e adattarci di conseguenza. Sì, rimanere concentrati sul cliente ci aiuterà a mantenere un vantaggio competitivo. Non potrei essere più d'accordo. Il loro duro lavoro merita riconoscimento e apprezzamento. Dovremmo celebrare questo traguardo ed esprimere gratitudine ai nostri dipendenti. Assolutamente. Riconoscere il loro contributo aumenterà il morale e la motivazione. È importante rimanere proattivi e continuare a cercare nuove opportunità di crescita. Concordato. Dovremmo innovare ed evolverci costantemente per stare al passo con la concorrenza. Il nostro successo apre anche possibilità di partnership e collaborazioni. L'esplorazione di alleanze strategiche può migliorare ulteriormente le nostre prospettive commerciali. Dovremmo sfruttare i nostri punti di forza e cogliere le opportunità di espansione. Assolutamente. È fondamentale capitalizzare i nostri vantaggi competitivi. Ricordiamo anche l'importanza della sostenibilità e delle pratiche commerciali responsabili. Sì, essere attenti alla società e all'ambiente risuonerà tra i nostri clienti. Il nostro successo è una testimonianza della nostra visione e determinazione collettiva. Infatti, insieme possiamo superare le sfide e raggiungere vette ancora più elevate. Sono fiducioso nella nostra capacità di sostenere questo slancio e continuare a prosperare. Lezione 8. Connessioni familiari Eianna, quando si tratta di cugini, non ne ho molti come alcune persone. Ciao John. I legami familiari sono unici per ogni persona. Come ti diverti con i tuoi parenti? Sfruttiamo al massimo il nostro tempo insieme organizzando riunioni di famiglia e gite. Sembra delizioso. Quali attività svolgete di solito durante questi incontri? Ci piace fare picnic nel parco, giocare e condividere storie della nostra infanzia. È meraviglioso creare ricordi duraturi con i propri cari attraverso tali esperienze. Assolutamente. I legami familiari si rafforzano quando ci impegniamo in attività divertenti e significative. Sono d'accordo, è importante coltivare questi legami e apprezzare il tempo trascorso insieme. Celebriamo anche occasioni speciali come compleanni e festività come un'unità affiatata. Questi momenti festivi devono suscitare un senso di gioia e solidarietà. Infatti, è commovente testimoniare l'amore e il sostegno all'interno della nostra famiglia allargata. Le riunioni di famiglia offrono l'opportunità di riconnettersi e ritrovare i parenti. Precisamente. Condividiamo risate, buon cibo e creiamo un senso di appartenenza. È bello come la famiglia possa portare tanto calore e felicità nella nostra vita. La famiglia non è definita solo dai legami di sangue, ma anche dall'amore e dalla connessione che condividiamo. Assolutamente. È la qualità delle relazioni che conta di più, non la quantità. Ben detto. La famiglia è una fonte di sostegno, conforto e compagnia per tutta la vita. Mi sento fortunato ad avere un legame stretto con i miei parenti, nonostante i numeri minori. Abbiate cura di questi legami e continuate a coltivare l'amore all'interno della vostra famiglia. Lo farò. La famiglia è davvero un tesoro che porta felicità e appagamento. Non potrei essere più d'accordo. Ecco la gioia e i momenti significativi con i tuoi cari. Saluti. Che la famiglia sia sempre fonte di amore e felicità nella nostra vita. Lezione 9. Collezione di supereroi. Ciao Anna. Sai che ho collezionato figure di plastica di tutti i supereroi? Ciao John. Sembra affascinante. Quali supereroi hai collezionato? Ho collezionato figure di eroi iconici come Superman, Batman, Spider-Man e molti altri. È impressionante. Cosa ti ha spinto a collezionare queste figure di supereroi? Sono sempre stato affascinato dalle loro straordinarie capacità e dalle loro storie ispiratrici. I supereroi spesso incarnano valori come il coraggio, la giustizia e la ricerca della verità. Esattamente. Sono simboli di speranza e ci ispirano a dare il meglio di noi stessi. Collezionare queste figure deve averti permesso di immergerti in quel mondo. Assolutamente. È come avere un pezzo del loro universo eroico a casa. Hai un supereroe preferito tra quelli che hai collezionato? È difficile sceglierne solo uno, ma ho sempre avuto un debole per Batman. Il personaggio oscuro e misterioso di Batman aumenta sicuramente il suo fascino. Sicuramente. La sua dedizione alla protezione di Gotham City è ammirevole. Hai esposto la tua collezione di supereroi in un modo particolare? Ho allestito uno scaffale dedicato dove li ho disposti in posse dinamiche. Deve essere stato un display visivamente accattivante. Sì, ha aggiunto un tocco di eccitazione e colore al mio spazio abitativo. Ti sei mai cimentato in giochi fantasiosi con i tuoi personaggi di supereroi? Assolutamente. Creerei battaglie epiche e avventure elettrizzanti nella mia immaginazione. È incredibile come queste figure possano stimolare la creatività e la narrazione. Infatti. Mi hanno permesso di creare le mie narrazioni all'interno del loro universo di supereroi. Collezionare supereroi può anche essere un modo per entrare in contatto con altri che condividono la stessa passione. Sicuramente. Ho incontrato altri collezionisti e ho partecipato a convegni in cui ci siamo scambiati storie e approfondimenti. È meraviglioso come hobby come questo possano favorire un senso di comunità e cameratismo. Collezionare supereroi è diventato più di un semplice hobby per me. È diventato un modo per celebrare questi personaggi iconici. Questo è bellissimo. La tua collezione deve avere anche un valore sentimentale. Lo fa. Ogni figura rappresenta un pezzo della mia infanzia e della gioia che mi hanno portato. Conserva quei ricordi e l'ispirazione che continuano a fornire. Lo farò. I supereroi hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita. Ecco il potere duraturo dei supereroi e le storie che continuano a ispirarci. Saluti. Che l'eroismo che incarnano ci ricordi sempre il nostro potenziale. Lezione 10. Obiettivi di fitness. Ehi Anna, volevo migliorare la mia resistenza. Questo è il mio obiettivo. Ciao John. È impressionante. Qual è il tuo piano per raggiungere questo obiettivo? Ho iniziato a incorporare allenamenti cardioregolari nella mia routine. È un ottimo modo per aumentare la resistenza e migliorare la resistenza. Sì, ho corso e pedalato per aumentare la mia forma cardiovascolare. La coerenza è fondamentale quando si tratta di costruire la resistenza. Con che frequenza ti alleni? Il mio obiettivo è allenarmi almeno 4 o 5 volte a settimana per vedere i progressi. È una buona frequenza. Finora hai notato dei cambiamenti nella tua resistenza? Sicuramente. Ora posso percorrere distanze più lunghe senza sentirmi così stanco. Questa è una chiara indicazione che il tuo duro lavoro sta dando i suoi frutti. È motivante vedere il miglioramento e sentire che il mio livello di forma fisica sta migliorando. Hai pensato di aggiungere altri esercizi per completare i tuoi allenamenti cardio? Sì, ho iniziato a incorporare esercizi di allenamento della forza per aumentare la forma fisica generale. Questo è un approccio a tutto tondo. L'allenamento di forza può anche migliorare la resistenza. Assolutamente. Aiuta a costruire muscoli e a migliorare le prestazioni atletiche complessive. Hai obiettivi o traguardi specifici verso i quali stai lavorando? Ho intenzione di partecipare a una mezza maratona entro i prossimi sei mesi. È un obiettivo ambizioso. Richiederà una formazione e una dedizione costanti. Sono pronto a impegnarmi e a spingermi per raggiungerlo. Questa determinazione ti porterà lontano. Buona fortuna con il tuo allenamento. Grazie, apprezzo il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento. Ricordati di ascoltare il tuo corpo e di aumentare gradualmente l'intensità dei tuoi allenamenti. Sì, mi assicurerò di dare priorità alla sicurezza ed evitare sforzi eccessivi. Lezione 11. Routine di fitness Ciao Anna, mi piace correre, quindi lo farò regolarmente. E inizierò a sollevare pesi. Ciao John. Sembra una routine di fitness a tutto tondo. Perché il sollevamento pesi? Il sollevamento pesi mi aiuterà a rafforzare e tonificare i muscoli. È un'ottima aggiunta alla tua routine di corsa. Hai mai fatto sollevamento pesi? Sì, ho una certa esperienza, ma ora voglio incorporarla in modo più coerente. È importante iniziare con una forma corretta e aumentare gradualmente i pesi. Mi assicurerò di concentrarmi sulla mia tecnica e di non correre su pesi pesanti. Questo è saggio. È meglio dare la priorità alla forma corretta per evitare lesioni. Assolutamente. La sicurezza è fondamentale quando si tratta di qualsiasi forma di esercizio. Hai in mente un programma o un piano specifico di sollevamento pesi? Inizierò con esercizi composti come squat, stacchi e distensioni su panca. Gli esercizi composti coinvolgono più gruppi muscolari e forniscono guadagni di forza complessivi. Sì, sono efficienti ed efficaci per costruire una solida base. Farai sollevamento pesi negli stessi giorni in cui corri o li alternerai? Alternerò corsa e sollevamento pesi per dare al mio corpo un tempo di recupero adeguato. Questo è un approccio intelligente per prevenire il sovraffaticamento e promuovere la riparazione muscolare. Il recupero è importante tanto quanto gli allenamenti stessi? Assolutamente. Permette al corpo di adattarsi e diventare più forte. Mi assicurerò anche di includere esercizi di stretching e mobilità nella mia routine. Lo stretching e il lavoro di mobilità aiuteranno a migliorare la flessibilità e prevenire la tensione muscolare. Sì, voglio mantenere una buona libertà di movimento e prevenire eventuali squilibri. È fantastico che tu stia considerando l'equilibrio generale e il benessere del tuo corpo. Prendersi cura del proprio corpo è essenziale per la forma fisica e la salute a lungo termine. Hai in mente degli obiettivi specifici per la tua routine di sollevamento pesi? Il mio obiettivo è aumentare gradualmente la mia forza e migliorare il mio fisico generale. Stabilire obiettivi realistici e raggiungibili ti aiuterà a rimanere motivato nel tuo percorso di fitness. Sono d'accordo la progressione e la coerenza sono fondamentali per raggiungere questi obiettivi. Ricordati di ascoltare il tuo corpo e di modificare la tua routine se necessario. Sì, farò attenzione a qualsiasi segno di affaticamento o dolore eccessivo. Lezione 12. Viaggio di apprendimento delle lingue. Ciao Anna. Per ora sono autodidatta, ma potrei prendere in considerazione delle lezioni in futuro. Ciao John. È impressionante che tu abbia imparato da solo. Come hai iniziato? Ho iniziato utilizzando risorse online e app per l'apprendimento delle lingue. Questi possono essere ottimi strumenti per dare il via al tuo percorso di apprendimento delle lingue. Sì, offrono molta flessibilità e convenienza. Hai trovato utili risorse o metodi particolari? Ho usato Flashcar e mi sono esercitato con partner di scambio linguistico. Le flashcard sono un modo fantastico per imparare e conservare il vocabolario. I partner per lo scambio linguistico mi hanno aiutato a esercitarmi a parlare e a migliorare la mia fluidità. Questo è un approccio intelligente. La pratica regolare della conversazione è fondamentale per lo sviluppo del linguaggio. Sicuramente. Mi permette di applicare ciò che ho imparato in situazioni di vita reale. Hai incontrato delle difficoltà mentre imparavi da solo? A volte ho problemi con la grammatica e la struttura delle frasi. La grammatica può essere complicata, ma la pratica e l'esposizione costanti ti aiuteranno a migliorare. Ho letto libri e guardato film nella lingua di destinazione per immergermi di più. L'immersione è un ottimo modo per sviluppare le tue capacità di comprensione e familiarizzare con la lingua. Finora è stato un viaggio divertente e gratificante, ma sono aperto a esplorare altre opzioni di apprendimento. Considerare le lezioni future può fornire una guida strutturata e istruzioni personalizzate. Sì, avere un insegnante o un tutor può offrire feedback e supporto preziosi. Possono anche aiutarti ad affrontare eventuali aree di difficoltà specifiche e ad adattare le lezioni alle tue esigenze. Questo è vero. L'istruzione personalizzata può accelerare i miei progressi. Hai deciso la lingua che vuoi imparare o stai esplorando più lingue? Mi sono concentrato sullo spagnolo, ma sono anche interessato a imparare il francese in futuro. È meraviglioso. L'apprendimento di più lingue può ampliare i tuoi orizzonti e aprire nuove opportunità. Lo credo anch'io. Essere multilingue può migliorare la comunicazione e la comprensione culturale. Assolutamente. È un'abilità preziosa da possedere nel mondo interconnesso di oggi. Sono entusiasta di continuare il mio percorso di apprendimento delle lingue e vedere dove mi porterà. Non ho dubbi che acquisirai competenza e fluidità con la tua dedizione. Grazie. Il tuo incoraggiamento significa molto per me. Lezione 13. Condivisione delle responsabilità Ciao Anna. Spengo le luci. Condividiamo una camera da letto, quindi a turno spegniamo la luce. Ciao John. È un accordo equo. Mantiene le cose in equilibrio tra di noi. Assicura che entrambi contribuiamo a mantenere il nostro spazio vitale. Assolutamente. La condivisione delle responsabilità crea un ambiente armonioso e cooperativo. Inoltre, è un piccolo gesto che promuove il risparmio energetico. È importante essere consapevoli del nostro consumo di energia e ridurre gli sprechi inutili. Spegnere le luci quando non serve è un semplice passo verso la sostenibilità. Sono d'accordo ogni piccola azione contribuisce a fare la differenza. È anche attento al comfort reciproco e alla qualità del sonno. Sicuramente. Garantire un ambiente tranquillo durante il sonno è un vantaggio per entrambi. Fare i turni ci permette di condividere la responsabilità ed evitare conflitti. È una soluzione equa e pratica che promuove l'armonia nella nostra sistemazione abitativa. La comunicazione è fondamentale per assicurarci di essere sulla stessa pagina per quanto riguarda l'utilizzo leggero. Discutere apertamente delle nostre preferenze ed esigenze ci aiuta a trovare un terreno comune. In questo modo, possiamo rispettare i confini reciproci e scendere a compromessi se necessario. Trovare un equilibrio che funzioni per entrambi è essenziale per una situazione di vita armoniosa. Assolutamente. Apprezziamo e diamo priorità alla nostra comprensione e cooperazione reciproche. È meraviglioso come possiamo lavorare insieme per creare uno spazio abitativo confortevole e premuroso. Apprezzo la nostra disponibilità a condividere le responsabilità e a rendere piacevole la nostra sistemazione di vita per entrambi. Allo stesso modo, è un piacere avere un coinquilino premuroso e collaborativo come te. Grazie, è bello condividere questa esperienza di vita con qualcuno che apprezza l'armonia e la comunicazione. Lezione 14. Accogliere la primavera Ciao Anna, è bello rivederli dopo il lungo e freddo inverno. Quando arriva la primavera, l'erba cresce molto. Ciao John. Sì, è rinfrescante assistere al rinnovamento della natura durante la stagione primaverile. Il vivace colore verde dell'erba è uno spettacolo gradito dopo mesi di ottusità invernale. Assolutamente. La primavera riporta vita e vitalità all'ambiente circostante. È affascinante la rapidità con cui l'erba riacquista rigogliosità e bellezza. Il cambiamento è notevole. È come se la natura si risvegliasse dal suo sonno. La primavera è una stagione di crescita e rinascita, non solo per l'erba ma anche per i fiori e gli alberi. Questo è vero. I fiori che sbocciano e le foglie in erba creano un paesaggio pittoresco. È un ottimo momento per stare all'aria aperta e immergerci nella bellezza della natura. Il clima piacevole e il paesaggio fiorito rendono la primavera la stagione perfetta per le attività all'aperto. È un'opportunità per apprezzare le meraviglie della natura e riconnettersi con l'ambiente. La primavera significa anche un nuovo inizio e la possibilità di abbracciare nuovi inizi. È il momento di ringiovanire e stabilire le intenzioni per i mesi a venire. Le pulizie di primavera sono una pratica comune in questa stagione, che simboleggia un inizio nuovo e organizzato. Riordinare e riordinare i nostri spazi abitativi può avere un impatto positivo sulla nostra mentalità. Un ambiente pulito e organizzato può aumentare la produttività e promuovere un senso di benessere. La primavera ci ricorda la natura ciclica della vita e la costante possibilità di crescita e rinnovamento. È una bella metafora della crescita personale e dell'accettazione del cambiamento. Infatti, l'arrivo della primavera ci riempie di speranza e ottimismo per ciò che ci aspetta. Sfruttiamo al massimo questa vivace stagione e abbracciamo tutta la bellezza e le opportunità che offre. Assolutamente. Auguriamo il benvenuto alla primavera e godiamo delle meraviglie della natura. Lezione 15. Fuga dall'isola Ciao Anna, ehi, sono appena tornato da un viaggio in una bellissima isola dell'Oceano Pacifico. Ciao John. Sembra incredibile. Raccontami tutto della tua avventura sull'isola. L'isola era un paradiso tropicale con spiagge incontaminate e acque cristalline. Posso solo immaginare i panorami mozzafiato e il suono rilassante delle onde dell'oceano. Era come entrare in una cartolina. La bellezza naturale era impressionante. Hai avuto la possibilità di esplorare il mondo sottomarino mentre eri lì? Assolutamente. Sono andato a fare snorkeling e sono rimasto incantato dalle vivaci barriere coralline e dai pesci colorati. Esplorare la vita marina deve essere stata un'esperienza davvero coinvolgente. Era come immergersi in un mondo completamente nuovo sotto la superficie. Incontri memorabili o esperienze uniche durante il tuo viaggio. Ho avuto l'opportunità di nuotare con i delfini. È stato un momento esaltante e indimenticabile. Interagire con i delfini deve essere stato un legame incredibile con la natura. È stata un'esperienza magica. I delfini sono creature così intelligenti e giocose. Posso solo immaginare la gioia e la meraviglia che devi aver provato in loro presenza. L'isola aveva anche lussureggianti foreste pluviali e sentieri escursionistici. Ho esplorato le meraviglie naturali anche sulla terraferma. È affascinante come le isole possano offrire paesaggi ed ecosistemi così diversi. Infatti, dalle spiagge sabbiose alle fitte foreste, l'isola aveva qualcosa per tutti. Hai provato la cucina locale o le attività culturali durante il tuo soggiorno? Sì, ho assaggiato deliziosi piatti a base di pesce e ho assistito alla musica e alla danza tradizionali dell'isola. Immergersi nella cultura locale aggiunge un tocco speciale a qualsiasi esperienza di viaggio. Era una miscela perfetta di relax, avventura e arricchimento culturale. Viaggiare in posti nuovi apre la nostra mente e amplia le nostre prospettive. Assolutamente. È un promemoria della vastità e della bellezza del nostro mondo. Sono contenta che tu abbia fatto un viaggio così memorabile. Deve essere stata una fuga meravigliosa. È stato davvero rigenerante. Sono grato per l'opportunità di esplorare e scoprire. Lezione 16. Wedding Was Ciao Anna. Hai pensato a cosa indossare per il matrimonio di nostra cugina? Ciao John. Sì, sono un po' confuso. Cosa hai intenzione di indossare? Sto pensando di indossare un abito classico. È una scelta sicura ed elegante per le occasioni formali. Sembra un'ottima opzione. Sto considerando un vestito, ma non sono sicuro del colore. Che ne dici di una tonalità pastello? Sarebbe elegante e perfetto per un matrimonio primaverile. Questo è un buon suggerimento. Cercherò un abito color pastello che si abbini alla mia carnagione. Ricordati di considerare anche il codice di abbigliamento indicato sull'invito. Hai ragione è essenziale vestirsi in modo appropriato e rispettare i desideri della coppia. Se non esiste un codice di abbigliamento specifico, puoi optare per un abbigliamento semiformale o da cocktail. Questo ci dà una certa flessibilità nella scelta dei nostri abiti. Lo terrò a mente. Un altro aspetto importante è considerare la location e il clima il giorno del matrimonio. Assolutamente. Dovremmo vestirci di conseguenza per essere comodi e adatti all'ambiente. Se si tratta di un matrimonio all'aperto, tessuti leggeri e abbigliamento traspirante sarebbero l'ideale. Questo è un buon punto. Non vorrai sentirmi troppo accaldata o limitata durante la festa. Inoltre, presta attenzione agli accessori e alle calzature che completano il tuo abbigliamento. Giusto. Cercherò accessori che aggiungano un tocco di eleganza senza sopraffare l'abito. E non dimenticare di portare un paio di scarpe comode per ballare tutta la notte. Il comfort è fondamentale, soprattutto se ci saranno molti balli e socializzazioni. È anche una buona idea coordinare i nostri outfit in una certa misura, in modo da completarci a vicenda. Sembra un'idea divertente. Coordinare colori o stili può creare un look coerente. Aggiunge un tocco di unità e dimostra che siamo una famiglia solidale. Sono d'accordo vogliamo apparire al meglio, mentre celebriamo il giorno speciale di nostra cugina. Prendiamoci del tempo per esplorare diverse opzioni e assicurarci di sentirci sicuri delle nostre scelte. Sicuramente. Vogliamo sentirci a nostro agio e apparire al meglio, mentre celebriamo l'amore e la felicità. Assolutamente. Facciamo di questo matrimonio un'occasione memorabile per tutti. Grazie. Grazie a tutti